Si ritorna a vivere, ma non si dimentica, a Nembro. Il 21 febbraio 2020 il primo caso di Covid in Italia viene individuato a Codogno, ma pochi giorni dopo sale, agli onori delle cronache, questo piccolo paese della bassa valseriana. Su 11.000 abitanti nel primo mese di epidemia muoiono 188 persone. In marzo si celebrano fino a 15 funerali al giorno. In queste strade si incolonnano i camion dell'esercito con le bare in attesa di sepoltura. È stata una bruttissima esperienza, poi non uscivamo più, poi quasi tutte le case hanno avuto un morto. A me sa cos'è che ha dato fastidio molto, quando dicono che non erano morti, c'erano i camion vuoti, quelle sono cose proprio che spaccano il cuore. Siamo un pochettino tristi, malinconici, ecco l'aggettivo giusto è questo qua. Speriamo che adesso con la curva che sembra che scenda abbastanza bene, di riprendersi ancora come ai tempi del pre-Covid. Il virus è arrivato improvviso e imprevisto a Nembro e con la malattia e la morte ha portato il lockdown, la paura e la solitudine. A tutta questa sofferenza ha risposto una comunità unita e solidale e con coraggio e generosità. Tanti si sono prodigati per i più fragili. Abbiamo vissuto durante questa prima ondata un grande spirito di solidarietà da parte di tutta la comunità, ci siamo sentiti proprio famiglia. Quello che anche noi come Chiesa vogliamo lasciare è che questo spirito di comunità familiare si allarghi sempre di più.